Clizz e Paolo sono pronti per la diretta che commentano Sanremo e intanto Gabriele fa il monello nel box Gabriele non è monello è buono buono che piccolo birichino che fai no 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 che monello Clizz e Paolo a fare la diretta e intanto Gabriele se la spassa con nonna Eleonora che lo accontenta sempre in tutto è giusto così da nonna questo e altro Grazie